Tra gennaio e febbraio la città del Santo e di Giotto ha registrato un netto aumento di visitatori dall'Italia e dall'estero, più 53,5% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2022 e più 31,5% a febbraio. Quasi quadruplicate le visite in città di turisti provenienti da fuori Europa, poco meno di 4.000 a inizio anno, furono 1.090 nei primi due mesi del 2022. Quasi raddoppiati i turisti provenienti dal resto d'Europa, 34.000, furono 19.000 a gennaio e febbraio del 2022. Mete principali del visitatore la Cappella degli Scrovegni ma anche il percorso di capolavori realizzati tra il 1305 e il 1397 da Jacopo da Verona a Guariento, da Giusto de Menabuoi a Jacopo Avanzi. Inoltre in città fino al 4 giugno turisti e appassionati d'arte potranno visitare anche la mostra dedicata agli artisti del Novecento Frida Calo e Diego Rivera che rivela interessanti connessioni con l'arte presente sui monumenti cittadini. All'inizio degli anni 20 Rivera fa un viaggio in Europa, vive a Parigi per diversi anni ma viene a Padova, lo scrive in una lettera ma soprattutto schizza la Cappella Ovetaria di Mantegna all'interno della Chiesa degli Eremitani. Scopre Giotto, scopre Giotto ed ha una grande illuminazione, prima non è muralista, torna in Messico inizio anni 20 ed è muralista, grande pittura parietale. Dieci anni dopo manifesto del muralismo di Sironi e di Campigli che lavorano a Padova, qui pensa Liviano Campigli che sostanzialmente si rifà a Rivera, quindi c'è questo streccio in treccio tra Rivera, Giotto, Campigli e sempre Padova.